E' morto un cane purtroppo, non è piacevole, non è stato piacevole. Comunque adesso aspetteremo i risultati dell'autopsia. Non è riuscito a trattenere le lacrime Giuseppe Biagiotti, titolare del centro selezione del Biaggio, sullo spiacevole fatto accaduto lo scorso sabato durante lo svolgimento della manifestazione Mare e Monti. L'evento, che ha riscosso un grande successo, ha portato nella città di Pesaro tantissimi cani di razza Alaska Malamut insieme ai loro padroni provenienti da tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali. Mentre era in programma il dog trekking sul parco San Bartolo, tre cani sono finiti su dei probabili bocconi avvelenati lasciati lungo il sentiero. Uno di questi purtroppo non ce l'ha fatta. E lì un cane non ce la faceva più a camminare perché dicevano che aveva preso degli antibiotici e allora l'abbiamo caricato in macchina. E poi oltre questo cane, altri due cani facendo ancora un chilometro erano affaticati e si sono accasciati giù all'ombra. Purtroppo è successo che un cane l'abbiamo portato in clinica e è deceduto. Adesso non sappiamo ancora di cosa sia morto e sono stati ricoverati alla clinica Santa Teresa di Fano. E questa mattina l'ho portato allo zoo profilattico di Pesaro per fare degli accertamenti. Gli altri due, uno è già andato a casa, addirittura ieri ha fatto la gara di triaton e l'altro cane è ricoverato ma già da ieri sera ha cominciato a migliorare. Questa mattina la clinica mi ha detto che il cane ha mangiato e adesso facevano ulteriori, ogni due o tre ore fanno un esame del sangue. Gli esami del sangue sono tornati sulla norma. Ora si sta cercando di capire l'effettiva presenza di queste esche e se eventualmente fossero state sparse per i lupi, volpi o cinghiali che frequentano quei luoghi e non per i cani che proprio in quel giorno erano presenti lungo i sentieri del San Bartolo. Sicuramente qualcuno potrebbe aver messo anche dei bocconi per le volpi, per i lupi. Noi avevamo una guida con due cuccioloni del mio allevamento che avevano quattro mesi. Loro hanno aperto la fila che andavano dietro e poi c'era anche un signore con un cane adulto, loro erano davanti e questi cani erano subito dopo dietro. Per ulteriori chiarimenti sul fatto ora stanno indagando gli uomini dei carabinieri forestali di Pesaro e Urbino.